al pubblico da casa la più cordiale buona visione benvenuti a questo speciale telesveva dedicato alla giornata internazionale dell'infermiere giornata che si celebra il 12 maggio e che ci darà spunto per una serie di riflessioni sulla professione infermieristica sul mondo sanitario in maniera più complessiva spunto e riflessioni che faremo con gli ospiti in studio che vado subito a presentare partendo dal presidente del collegio i PASVI BAT Michele Ragnatela che ringrazio e saluto insieme al vicepresidente Giuseppe Papagni e poi ancora completare il nostro parterre anche Paolo Barile consigliere del collegio i PASVI BAT Federico Ruta anche lui consigliere del collegio i PASVI BAT una dolce presenza che è quella di Antonia Melluni che è una neolaureata e che è anche vincitrice del premio che il collegio i PASVI BAT ha istituito ormai da sei anni si è celebrata proprio nella giornata di venerdì la sesta edizione premio nel quale vengono consegnati degli attestati anche un riconoscimento economico per l'approfondimento professionale alle migliori tesi di laurea sulla professione infermieristica parleremo di questo e nel corso della nostra trasmissione avremo anche una sorta di work in progress per lo studio perché ascolteremo anche un altro consigliere del collegio i PASVI BAT che è Graziana Bonadie però per non rubare tempo solo alle presentazioni e ringraziando ancora una volta gli ospiti di questo speciale parto inevitabilmente dal presidente del collegio i PASVI BAT Michele Ragnatela perché il punto di partenza è questa giornata internazionale dell'infermiere forse poco conosciuta poco pubblicizzata da chi non vive il mondo sanitario ma per voi non soltanto una giornata simbolica ma importante per diversi motivi è importante per un semplice motivo nasce il 12 di maggio la chi è che ha creato l'infermiere insomma di oggi la Nightingale lei è stata la precursore di tutto il sistema e anche la professione infermieristica già all'epoca si poteva si poteva ragionare in termini di statistiche in termini di diagrammi di flussi di diagrammi ciò che oggi stiamo cercando di mettere in atto proprio per evidenziare quale sono le peculiarità quali sono le carenze esistenti e quali le soluzioni da apporre da proporre per poi migliorare quella che è la qualità di cura dell'assistenza è una cosa a dir poco emblematica se facciamo un riferimento storico la guerra di crimea aveva prodotto nel nella sua diciamo diatriba un bel po di morti di questi si è evinto che il 42 quindi dal 40 al 50 per cento la causa di morte è stata solo per infezioni c'è neanche la guerra è stata capace di di fare più delle delle infezioni ciò che anche oggi accade negli ospedali siamo tra il 6 e l'8 per cento delle infezioni a livello nazionale che insieme alla medicina difensiva e a quant'altro sforiamo come una cosa intorno ai 15 miliardi di euro da poter utilizzare per la sanità 15 miliardi che se utilizzati con un aumento del personale adeguatamente formato ridurrebbe non so di quanto i costi ci sono degli studi alla alla base di questo e in pratica che cosa vanno ad evidenziare che un personale un formato capace di assolvere alle proprie competenze e anche a quelli che sono i bisogni delle delle persone riesce ad abbattere ulteriormente i costi della sanità la nostra sanità è una sanità a 360 gradi è una sanità che vuole essere equa per tutti ma l'equità non può essere quello che spetta a me deve aspettare per forza all'altro quello che a me serve oggi devo utilizzare quello che all'altro non serve deve andare a perecuare quello che è il servizio ma al di là di questo oggi la giornata dell'infermiere è una giornata che si avvicina sempre più all'utente finale cioè il paziente ma è allo stesso tempo anche una nostra prerogativa di crescita ovvero noi vogliamo crescere ma crescere non togliendo niente a nessuno ci sono diatribe anche con i medici contrasti con i medici addirittura ho letto ieri sulla roi su una testata giornalistica medica dove si chiede alla all'europa di creare delle competenze mediche cioè noi ci siamo tolti il mansionario e questi vogliono creare un mansionario al di là del quale noi non possiamo entrarci ma il problema non è qui il problema è lavorare insieme e questa che coevoluzione che è un certo professor cavicchi veramente in gamba da questo punto di vista vuole portare tutti ad aumentare a crescere a far sì che il servizio alla fine risulti essere migliorativo e ben utilizzato dall'utente finale noi su questo e su questa giornata ci proponiamo veniamo qui a viso scoperto perché perché vogliamo farci conoscere la gente ci conosce come infermieri quando ci sono delle problematiche o è colpa del medico o è colpa di altri gli altri sono sempre gli infermieri negli ospedali nelle strutture private sul territorio non lavorano solo gli infermieri lavorano i fisioterapisti lavorano gli os lavorano i i soci sanitari di ogni genere quindi ci sono tante figure che possono sbagliare anche noi sbagliamo per carità di dio però noi vogliamo un riconoscimento non solo simbolico ma che la gente ci conosca ci capisca qual è il nostro obiettivo il nostro obiettivo quello di crescere ed è quello di aiutare le persone perché questo è quello che l'infermiere fa è responsabile dell'assistenza non della cura della cura del medico noi dell'assistenza in toto e al medico non vogliamo togliere nulla anzi ben vengano quei medici che vogliono fare di più vogliono crescere dando a noi l'opportunità non solo di crescere ma di capire meglio qual è quello che serve al all'utente finale e cioè al paziente ricordandoci sempre che quel paziente prima o poi potremmo anche essere noi è una sorta di giornata di sensibilizzazione allora mi rivolgo al vicepresidente papagni nel senso volete quasi essere da front office con i cittadini probabilmente lo fate quotidianamente ma questa giornata vi consente di amplificare ulteriormente il vostro ruolo la vostra richiesta ormai credo storica di riconoscibilità professionale sicuramente oggi noi siamo qua ci proponiamo all'utente finale che sono i nostri pazienti e ci proponiamo perché loro conoscono quelli che sono i nostri la nostra mission la nostra mission è quella di curare i pazienti e di rispondere a quelle che sono le esigenze di salute in un momento particolare della loro vita in un la loro vita perché la patologia purtroppo diciamo le ha compromesso lo stato di salute ecco perché noi siamo qua oggi anche per farci conoscere dai cittadini ci proponiamo affinché come collegio quindi come ordine degli infermieri ci proponiamo ai cittadini perché loro debbano conoscere chi è l'infermiere l'infermiere oggi è un professionista laureato che consegue una laurea triennale quindi laurea in infermieristica e che gli dà la possibilità appunto di sviluppare quelle competenze richieste dai cittadini sempre più cittadini si rivolgono privatamente agli infermieri noi come ordine abbiamo anche nel nostro mandato quello di dare garanzie verso i cittadini affinché queste prestazioni professionali vengono appunto erogate da infermieri e quindi iscritti all'albo come previsto dalla legge quindi lotta all'abusivismo è dare una garanzia di salute a tutti i cittadini perché gli infermieri iscritti all'albo sono quelli competenti a cui i cittadini devono rivolgersi quindi evitando appunto di rivolgersi a praticoni o diciamo tutte quelle figure che si spacciano per infermieri ma che poi infermieri non sono. Io tra un po' arriverò anche alle questioni strettamente universitarie visto che abbiamo parlato di un corso di laurea e abbiamo una neolaureata vincitrice del premio PASBIBAT ma dobbiamo anche ragionare un attimo di questi rapporti non so se definirli conflittuali ma non sempre sereni con l'università però voi siete un consiglio in carica da pochi mesi e mi rivolgo al presidente del collegio di PASBIBAT e credo che siano come diceva anche il vicepresidente punti fondanti questa lotta all'abusivismo questo voler finalmente far comprendere ai cittadini che siete dei professionisti credo che siano dei punti fondanti del vostro mestiere che anzi del vostro mandato che tante volte insomma deve fare i conti con il mestiere di tutti i giorni con la vita la vita di corsia io credo che prima di far conoscere all'utente finale quindi al paziente che noi siamo professionisti dobbiamo anche guardarci un po in faccia tutti professionisti compresi coloro che ci credono e coloro che non ci credono ecco perché la lotta all'abusivismo è un qualcosa di importante che non è solamente all'abusivismo di chi non ha titolo a far sì che possa esercitare ma anche a noi stessi a noi infermieri a crederci un po di più in quello che la professione ci rende cioè le responsabilità le competenze l'assolvere a qualsiasi situazione quindi avere quelle peculiarità che solo noi possiamo nei confronti degli utenti finali perché siamo coloro i quali siamo in front office ma non ipotetico reale e non solo ma siamo anche quelli che siamo stati ridotti come personale quindi dobbiamo assolvere a tante incombenze che sono quelle dell'assistenza diretta che sono quelle della parte burocratica che sono quelle della responsabilità che sono quelli della formazione ovvero noi non è che ci formiamo e dopo il triennio abbiamo finito ci sono master di primo livello laurea specialistica master di secondo livello dottorato quindi di ricerca quindi per noi è importante avere una visione del della professione a 360 gradi che non può essere solamente relegata al triennio dobbiamo spingere proporre i neolaureati ma anche noi stessi coloro di quali si sentono in grado di andare oltre di far sì che la conoscenza e la competenza possa essere un risultato migliorativo nell'assistenza e nella cura c'è uno studio internazionale l'rn4 cast dove in pratica ed è uscito sull'anset qualche mese fa dove specifica solo due cose cioè un aumento e questo è stato visto in un in una pletora di pazienti chirurgici di grandi grandi chirurgia all'interno del quale si è visto che il 66 60 per cento degli infermieri sono competenti quindi formati riducono del 30 per cento la mortalità post operatoria il che è uno studio solo si infermieristico nella stragrande parte del 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 discorso ma ha rilevato una problematica imponente che è quella che vive oggi non solo la sanità italiana ma quasi tutte le sanità del mondo voglio solo dire che a fronte di un rapporto medico infermiere medico 1 a 1 quasi italiano in altre realtà tipo il belgio l'olanda abbiamo un rapporto di 1 a 2 5 1 a 3 ciò vuol dire che di medici sono sempre meno rispetto agli infermieri e se noi poco poco dovessimo tener conto che una riduzione di 100.000 unità mediche a fronte di 60.000 infermieri che servono e io ci metterei 40.000 di os che servirebbero anche porterebbero non solo ad un risparmio economico notevole ma anche ad una qualità e ad una ad un raggiungimento delle cure migliori di non so quanto di circa un 30 per cento Antonio Mennuni ha realizzato una tesi di laurea per raccontare il suo percorso universitario e se vogliamo il miglior riconoscimento che gli è stato dato al di là del premio anche in denaro e sono state proprio le parole del presidente dell'IPASVIBAT Michele Ragnatera quando nel corso della cerimonia ha detto per noi infermieri di vecchia generazione è importante leggere le tesi di chi si entra adesso in questo mondo professionale credo che sia già questo un motivo di merito ma che cosa ha raccontato in questa in questa tesi così interessante? La ringrazio per la parola concessa a me e ci tengo a ringraziare il presidente dell'IPASVIBAT ma all'intero collegio per questa occasione per avermi dato la possibilità di valorizzare quello che è stato il mio lavoro di tesi, una tesi di laurea sperimentale, una tesi svolta all'interno dell'unità operativa di amatologia dell'ospedale dell'ospedale di Miccoli di Barletta e questo tengo a dirlo perché spesso si tende a sottovalutare quello che è la sanità, magari si parla spesso di malasanità, di queste problematiche però dobbiamo anche capire una cosa, noi siamo dei professionisti e come tali dovremmo essere rispettati al meglio, io come professionista mi sono sentita in dovere di andare a valutare quelli che sono i rischi infettivi e di dislocazione derivanti dal posizionamento di un PIC un PIC che non è altro che un tubicino flessibile che viene inserito attraverso una vena periferica del braccio la cui punta raggiunge la giunzione tra vena a cava superiore ed atrio destro e viene utilizzato per la somministrazione di farmaci soprattutto chemioterapici nei pazienti oncoematologici che sono stati pazienti appunto presi da me in considerazione. Il numero di pazienti era di 30 pazienti, ho diviso l'intero campione in tre gruppi in base ai sistemi di adessione e di medicazione utilizzati, i sistemi di adessione possono essere che sono i punti di sutura o il sistema STETLOC, mentre per quanto riguarda i sistemi di medicazione è possibile utilizzare o la medicazione in poliuretano trasparente, ottima per noi perché ci permette di valutare più facilmente l'exisite essendo appunto trasparente, l'exisite non è altro che il sito di inserzione del PIC stesso che non è altro che un accesso venoso centrale ad inserimento periferico e sia l'inserimento che la gestione è responsabilità dell'infermiere per cui l'infermiere può inserire questo tipo di accesso vascolare e spesso in alcune realtà questo non è possibile, però oggi noi essendo appunto, lo ripeto, siamo dei professionisti e quindi abbiamo la possibilità quindi di andare avanti. Questa esperienza che cosa, alla fine questa esperienza sul campo che cosa ha fatto emergere? Dal mio studio si evince che il sistema STETLOC, che è il sistema appunto di adessione, le medicazioni in poliuretano trasparente migliorano sia le performance del PIC stesso ma anche vanno a migliorare l'aspetto emotivo del paziente stesso. Credo che questa lezione sia servita agli amici a casa per capire che insomma sono in buone mani quando si affidano a un professionista infermiere e credo che sia materia di studio per voi o sbaglio? No, no, assolutamente. Certo, perché l'infermiere, io ci tengo a dire, perché spesso i pazienti tendono a valutarci come coloro che esigono solo le siringhe. Ma questo è un luogo comune. Questo è un luogo comune che se... Ma in realtà non sappiamo fare solo questo. Questo è un luogo comune. A proposito di università, vado da Federico Ruta, anche lì insomma il rapporto con gli infermieri, anzi con il forzo e con il corso di laurea infermieristico è sempre, non voglio definirlo conflittuale, però sgomitate anche lì per una riconoscibilità che sia pari ad altri corsi universitari. Si sono compiuti i passi avanti o si è sempre nelle retrovie in questo senso? Beh, sicuramente si sono compiuti dei passi avanti. Con questo nuovo consiglio direttivo la volontà è sicuramente quella di collaborare in maniera un po' più stretta con l'università e soprattutto cercare in collaborazione con la stessa di raggiungere quello che noi vorremmo, la tutela dello studente infermiere. Soprattutto dare la possibilità allo studente infermiere di arrivare al reparto e trovare qualcuno che lo segua attentamente durante... O accade poco. Accade poco. In realtà la maggior parte degli infermieri, in questa giornata ne approfittiamo anche per ringraziare, oltre che questa giornata deve essere d'aiuto per farci conoscere dagli utenti, ma soprattutto per ringraziare quello che i colleghi e tutti noi svolgiamo quotidianamente, soprattutto in ambito universitario. La maggior parte dei colleghi, molto spesso, anche non sapendolo, si vedono affibbiati un ruolo di tutor e questo è molto importante perché seguono gli studenti infermieri per tutta l'attività di tirocinio e quindi gli trasmettono quello che è il saper fare rispetto a questa professione qua. Quindi perché no, con questa commissione che noi abbiamo costituita all'interno del nuovo consiglio, i PASV-BAT, vorremmo proprio incentrare il nostro lavoro, già lo stiamo facendo, su questa fase che sarà la prima fase, sarà quella di tutoraggio. Cioè noi vorremmo veramente implementare l'attività di tutoraggio nei reparti da parte degli studenti, partendo da una loro necessità, perché la maggior parte delle volte gli studenti si sentono abbandonati. Ricordando che lo studente infermieri rappresenta per noi una risorsa legata anche a questo momento storico di scarsità del personale. Quindi per noi lo studente del reparto rappresenta un motivo di aiuto, rappresenta una persona che si avvicina al paziente, quindi comunque eroga una prestazione assistenziale. In quanto tale, ancora più ritengo opportuno e fondamentale la presenza dell'infermiere, proprio per non inficiare quello che è il lavoro che noi svolgiamo quotidianamente. Siamo partiti con i tutoraggi, adesso con l'università proporremo una sorta di laboratori didattici, cioè cercheremo noi infermieri, alcuni sono disposti anche a farlo a costo zero, perché crederci in questa professione significa non monitorizzare tutto ciò che noi facciamo, ma crederci significa studiarci su, approvvigionarsi di cultura e portarlo a quello che saranno poi i futuri infermieri, in questo caso gli studenti. Noi vorremmo con questi laboratori che stiamo proponendo all'università portare quello che è il nostro sapere con i ragazzi prima tra i branchi dell'università e poi dopo, perché no, testare quello che effettivamente noi abbiamo trasmesso loro nei reparti, cercando di dare una sorta di continuità, in questo caso tra studente e quindi università e ospedali. Un flash, prima di fermarci per una brevissima pausa, lo chiedo al Presidente, a proposito di iniziative in atto e messe in cantiere dal Collegio di Pasbibat, con Paolo Barile tra un po' parleremo anche di altre iniziative che riguardano la professione infermieristica, però un flash, perché Federico Luta parlava di questa necessità di personale, quanto manca perché si sia a regime nella professione sanitaria e nella professione infermieristica? Allora, il problema è che ci sono delle metodiche per rilevare la quantità di personale sufficiente a garantire un'assistenza sufficiente. Cosa servirebbe nel territorio dell'ASLBAT, per esempio, nel territorio della BAT? Cosa servirebbe? Che numeri servirebbero ancora? Io direi che infermieristicamente parlando andremo oltre i 200 infermieri, di cui non credo per il momento ci sia possibilità di ottenerli, ma per poter erogare una prestazione sufficiente, adeguata, dovremmo almeno ridurre le situazioni di assistenza, quindi qualche reparto andrebbe ridotto, qualche reparto andrebbe chiuso. Ciò che al momento non è possibile, perché comunque chi ne trarrebbe danno è l'utente finale. Non ce lo possiamo permettere, in questa giornata dell'infermiere non possiamo neanche pensarlo, tant'è che a fatica riusciamo a fare turni su turni nella speranza che la nostra regione apra ai nuovi infermieri e spero ai nuovi infermieri come la collega che è stata premiata. Spero veramente in questa cosa qui perché l'infermiere non è solamente un numero, non è solamente qualcosa che va a completare un organico. L'infermiere è qualcosa di più, è qualcosa che vive la patologia in maniera diretta rispetto ad un medico, ma non perché il medico non sia importante, anzi il medico è importantissimo, ha altro da fare e a noi l'incombenza di osservare, guardare, instaurare un rapporto e infondere fiducia all'utente finale. Brevissima pausa e rientriamo con Speciale Teresweva dedicata alla giornata internazionale dell'infermiere. Ben ritrovati con Speciale Teresweva, appuntamento dedicato alla giornata internazionale dell'infermiere. Nella prima parte abbiamo già sviscerato in maniera approfondita un po' numeri e soprattutto significato di questa giornata che vede in prima linea gli infermieri del collegio dell'Ipas Vibat. In questa seconda parte innanzitutto saluto Graziana Bonadie che ci ha raggiunto in studio con la quale parleremo anche di alcuni dei progetti messi in cantiere dal collegio Ipas Vibat. A proposito di progetti messi in cantiere avevo anticipato prima della pausa che con Paolo Barile che è consigliere del collegio Ipas Vibat avremmo parlato di uno di questi progetti che è quello relativo a scuole sicure. Demagogicamente è facile in un periodo in cui purtroppo si registrano episodi di scuole che sono tutt'altro che sicure andare a intervenire su questo tema. Però insomma spieghiamo... Chiaro che non parliamo di strutture. No, 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 non parliamo di strutture. No, dico, infatti ho detto demagogicamente è facile in un periodo in cui purtroppo cadono gli intonaci delle strutture ma quello non riguarda il lavoro degli infermieri. Qual è ovviamente il contenuto di questo progetto? Il progetto scuole sicure nasce da un'esigenza, l'esigenza di rendere più sicuri i luoghi dove i nostri bambini fanno le loro attività didattiche e quindi chiaramente dove trascorrono buona parte della loro giornata. Nello specifico noi daremo al personale scolastico e ai genitori, tengo a sottolineare i genitori, tutte le informazioni corrette riguardo a cosa non fare, cosa fare ma soprattutto come farlo nel caso in cui si dovessero trovare di fronte a delle emergenze drammatiche. Facciamo un paio di esempi di cosa non devono fare o cosa devono fare di fronte. Cosa devono fare, ad esempio se un bambino inavvertitamente, noi parliamo di bambino dai 0 ai 12 anni, se un bambino dovesse inavvertitamente inalare un corpo estraneo e diciamo mentre si sta tossendo non dobbiamo fare altro che incoraggiare a tossire il bambino, mai andare a mettere le mani in bocca per togliergli il corpo estraneo perché corriamo il grosso rischio di spingere ancora più giù il corpo estraneo, quindi un'ostruzione da essere incompleta diventerebbe completa. Questo progetto lo presenterete o l'avete già presentato a tutte le scuole? Questo progetto è stato già presentato in tutte le scuole della BAT, tengo a sottolineare in tutte le scuole della BAT ed è completamente gratuito, quindi le scuole non devono sborsare neanche un euro, è stato già presentato in tutte le scuole della BAT e al momento ci sono qualche scuola che mi ha già contattato e siamo in fase di partenza. Prevedete in pratica degli infermieri che vadano sul campo a fare delle lezioni? Gli infermieri, sono gruppi di infermieri che sono esperti e addirittura ci sono anche istruttori che fanno corsi proprio di primo soccorso, di BLSD pediatrico che faranno parte di questa equip che curerà personalmente l'informazione, quindi la formazione anche del personale e dei genitori dei bambini. Presidente, inevitabile, ma lo chiedo anche al Vicepresidente, poi insomma chi vuole mi fa una riflessione rapidissima su questo, anche qui credo che, forse un po' di scetticismo lo hanno percepito quando hanno ricevuto la richiesta del progetto, dice come? Gli infermieri ci vengono ad insegnare com'è scuola sicura, invece credo che... In realtà, diciamo che il progetto appena è stato presentato ha raccolto l'entusiasmo di parecchi presidi e quindi dirigenti scolastici che hanno risposto positivamente. Avete sorpreso in maniera positiva. Sì, voglio specificare, come bene ha detto Paolo, che il progetto è a carico del collegio e quindi è stato pensato per il bene della comunità provinciale, perché noi ci rivolgiamo ovviamente al territorio provinciale, ed è tenuto da infermieri e esperti che svolgono questa attività informativa a titolo gratuito. Ci tendo a specificarlo perché è una, diciamo, nostra iniziativa ed è un'iniziativa che serve appunto a dare, anche vista la giornata internazionale delle infermieri, più visibilità alla nostra comunità, quindi gli infermieri che offrono la propria esperienza, la propria professionalità al servizio della comunità che rappresentiamo. Il resto sui progetti, e vado da Graziana Bonadie, perché un altro dei progetti messo in cantiere dal collegio Ipasbibat è quello della garanzia giovani, anche qui demagogicamente, insomma, si può pensare che sia una sorta di accesso alla professione facilitato, invece spieghiamo di cosa si tratta. Invece no, perché purtroppo appunto prende quella fascia di infermieri che sono purtroppo ancora disoccupati. Parliamo di questa fascia dai 19 ai 29 anni, quindi abbiamo praticamente deciso, con tutto il collegio appunto, di occuparci proprio di loro, infermieri che hanno voglia di lavorare e che purtroppo sono alle prese con la disoccupazione, cioè posti di lavoro appunto non ce ne sono. Che facciamo allora? Offriamo un tirocinio nelle strutture private della BAT, stanno rispondendo le strutture, anche perché all'azienda ospedaliera, cioè alla struttura che ospita l'infermiere tirocinante, c'è da dire laureato, quindi è competente, cioè ha tutti i titoli per poter appunto esercitare la professione. E quindi appunto le varie strutture private stanno rispondendo, hanno bisogno di infermieri, non possono assumerli, noi lo speriamo, cioè ce lo auguriamo ovviamente, perché sappiamo benissimo appunto quanto l'infermiere, almeno io sono laureata da pochissimi anni, quando mi sono laureata la voglia, avevo proprio la voglia di lavorare, di iniziare sul campo subito ad avere un contatto stretto col paziente, perché da tirocinante penso che lei mi può dare ragione, da tirocinante sì c'è, le competenze le raggiungi, comunque attraverso lo studio, la pratica le raggiungi, però quando sei tu a stretto contatto col paziente e responsabile della cura del paziente, insomma, dell'assistenza infermieristica, beh è un'altra cosa. Con questo progetto vogliamo far sentire quegli infermieri disoccupati all'altezza della professione. Presidente, il paradosso è che, leggevo recentemente, l'infermiere italiano è parecchio richiesto all'estero, in Inghilterra nello specifico, allora il paradosso è che qui servirebbero infermieri e lì ce li mandiamo, e lì diciamo li prendono come il pane. Sì, intanto volevo anche precisare qualcosa, per l'azienda privata che assume, la clinica privata che assume, qualunque ente esso fosse, è gratis, perché il tirocinio, o se vogliamo lo stage, viene poi finanziato dalla regione attraverso i fondi europei, non solo, ma sono orgoglioso come lo siamo tutti, noi siamo il primo, forse in assoluto, collegio che ha messo, che ha posto in essere questa situazione, favorendo anche i neolaureati, i disoccupati, per due versi. Uno è perché comunque, attraverso l'informazione che noi gli forniamo, possono anche fare dei corsi di lingue, attraverso un protocollo d'intesa con degli enti formatori, e questo è proprio ideutico per andarsene all'estero. Come secondo è che noi gli diamo l'opportunità, e questo glielo diamo anche all'azienda che riceve il disoccupato, per farlo conoscere, quindi per far sì che se una persona è competente, è in gamba, e decide sulle basi, sulla scorta della capacità del disoccupato, di essere poi assunto. Quindi noi diamo due possibilità, informiamo che esistono delle possibilità e diamo queste due possibilità. E di questo mi sento particolarmente orgoglioso, e orgoglioso anche di stare in questo gruppo di consiglieri, e anche di revisore dei conti, perché quando siamo stati eletti, io onestamente non sapevo nulla di collegio, ma mi sono affiancato, così come anche la volontà di andare oltre, a trovare le soluzioni a queste problematiche, che sentivamo proprie, in quanto capiamo la necessità. Abbiamo anche noi dei figli, che cosa vuol dire? Essere disoccupati, dopo aver acquisito un titolo, che da subito ti può far lavorare, ma che di fatto non avviene. Un flash, vorrei che fosse speso anche sullo sportello psicologico. Esatto. Specifichiamo di cosa si tratta, insomma, anche lì, non è che fate consulenza a chi ha un po' qualche neurone fuori posto. Purtroppo l'infermiere, appunto, esegue dei turni, dei turni usuranti. L'ha detto prima il presidente Michele, che comunque mancano infermieri, quindi quelli che ci sono devono, appunto, coprire il servizio infermieristico, che purtroppo non c'è. Mancano proprio le unità infermieristiche. E quindi abbiamo, appunto, attraverso questo sportello psicologico, abbiamo una psicologa che può accogliere qualsiasi problema. Si parla di burnout, si parla di, appunto, sovraccarico lavorativo, turni massacranti. Insomma, l'infermiere può venire, appunto, al collegio, attraverso una prenotazione due volte al mese, e, appunto, dialogare con questa psicologa tranquillamente, cioè senza vincoli. Ovviamente, cioè, deve soltanto parlare di problemi infermieristici, di problemi che riguardano, appunto, la professione infermieristica. Le due battute finali le faccio fare alla neolaureata Antonia Mennuni, vincitrice del concorso Ipas Vibat, che quest'anno aveva anche un ricordo particolare. Un ricordo del nostro collega Riccardo. Lo abbiamo voluto associare, perché come persona solare, curiosa, così come l'infermiere deve essere, oltre che amica del paziente. Mi permetto di dire Riccardo Loconte, per chi ovviamente non lo conoscesse, non l'avesse conosciuto nell'ambito infermieristico. Quindi associare questo premio Ipas Vibat anche ad un nostro collega, ormai non più con noi, ci ha anche posto nella condizione di riflettere che siamo anche, alla fine, una grande famiglia. E allora, dicevo, un flash con Antonia Mennuni, banale ma necessaria la domanda. Rifaresti tutto questo percorso universitario, sapendo di tutte le difficoltà che troverai da domani in poi? Sì, lo rifarei. Perciò... E lo consiglio, perché è una bella professione. Presidente, bisogna tirare acqua al proprio mulino e allora lei convincerebbe ancora i giovani ad avvicinarsi alla professione infermieristica attraverso il percorso universitario? Forse chiederlo a me non è... non sono una persona indicata, perché io avevo tutt'altro lavoro, ero un metalmeccanico e avevo già un figlio, quindi sono oggi presidente e forse neanche io so come ci sono arrivato. Ma sicuramente è un percorso difficile, ma con tante soddisfazioni. Anche qualora si dovesse necessitare la condizione di andare fuori, cioè sentirsi addosso un vestito, una capacità, una competenza ed essere in grado di affrontare anche la patologia di un'altra persona, consigliandolo, perché non è solamente affrontare, è anche il consiglio che l'infermiere riesce a dare. Un consiglio spensierato, dove non ha fini di lucro, non ha fini di altro genere. Io consiglierei e sicuramente lo riproporrei sempre. Abbiamo celebrato la giornata internazionale dell'infermiere questo 12 maggio con Michele Ragnatela, Giuseppe Papagni, Graziana Bonadie, Paolo Barile, Antonia Mennuni e poi con Federico Luta che abbiamo avuto ospite nella prima parte. Sono Presidente, Vicepresidente e Consiglieri del Collegio Ipazvi-Bat, con la sola eccezione di Antonia Mennuni che è neolaureata, ma è vincitrice del concorso organizzato dall'Ipazvi-Bat dedicato ai neolaureati in materia infermieristica. Il nostro speciale Teresveva termina qui. Grazie agli ospiti per essere stati con noi. a voi da casa che ci avete seguito e ci ritroviamo con altri appuntamenti. Buon proseguimento con la nostra programmazione.